Ciao ragazzi, bentornati. Oggi è uscito il mio nuovo video, che è la parte 1 di quello che dobbiamo fare oggi. Io sono Pierre, come sempre, e oggi è l'ultimo giorno di fregare le carpe, in teoria. Pure se qui le carpe hanno già finito da un pezzo di fregare. E niente, sono ritornato qua a bus. Oggi utilizzeremo per lo più, pure se siamo in estate, ma come abbiamo visto nell'altro video, i bus qui sono veramente furbi. Pescheremo con un nuovo G-CAD della Trabucco. Peso specifico è 10,5 grammi. Useremo così o ci attaccheremo un trailer dopo, adesso vediamo. Poi utilizzerò sempre queste qua dell'Heracles, che mi trovo davvero bene. Se o me sono una delle esche che nascono per i Zander, ovvero per i Perca. Ma in questo passo qua per i bus spaccano. Quindi niente, queste sono le nostre nuove testine della Rapture. Quindi Rapture è Trabucco. E niente, ora andiamo in pesca e vediamo un po' cosa succede. A dopo. Sì. Ciao ragazzi. Ben ritrovati sul mio canale e a questo video qua. Oggi siamo ancora dove eravamo nell'altro video. Poche parole sono ritornato il giorno dopo, al video che è uscito oggi, per provare a fare i bus più grossi. Come stavo dicendo prima nell'introduzione, pescheremo con i gighead della Rapture. E niente, vediamo un po' cosa fare. Se facciamo qualche bel pesce. Al massimo dopo ci aggiungiamo qualche codina, qualche trailer. Vediamo un po' come funziona oggi l'andazzo. con questi bei pesci. Vi ricordo che da domani finisce la frega. E ritornerò in Libera a fare qualche bel pesce, qualche bella carpa. Oggi il nostro principale pesce insidiato sarà il bus. E nulla. Continuiamo e vediamo un po' cosa succede. A dopo ragazzi. 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 Alla prossima no che palle l'ho perso, l'ho perso l'ho perso l'ho perso l'ho perso l'ho perso si si stupendo, bello, bello sono venuto per questi che bello stupendo, grazie questa sessione di pesca al bus la chiudo qua questa è la seconda parte ho preso un bel pesce nulla ho avuto un po' di contrattempi oggi però niente di che quindi ragazzi seguitemi lasciate un like nulla al prossimo video ciao belli ciao a tutti ciao a tutti